Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così i problemi riguardo a GTA V che non si avvia su PC, quindi in questo caso se provi ad avviarlo su Epic Games oppure lo avvi su Steam potrebbe uscirti questo errore qua, quindi faccio avvia, esce così in esecuzione e dice l'inizializzazione del Rockstar Games launch è fallita, quindi ogni volta che non giochi per un mese o due, provo a vedere se Rockstar Games launch deve fare qualche aggiornamento, quindi faccio ok, impossibile avviare il gioco, provo a reinstallare il gioco, quindi non reinstallate il gioco, quindi qua è in esecuzione, chiudiamo un attimo Epic Games, andiamo direttamente su esegui, su esegui scrivi così per cento, shift più 5 per fare il per cento, app data per cento, vai ok, vai su app data, local, scendiamo fino a giù fino a trovare così la cartella di Rockstar Games, eccola qua, eccola qua, cancelliamo così la cartella di Rockstar Games, odiamo pure il cestino, chiediamo un attimo qua e ora andiamo su Rockstar Games launch, facciamo fare così l'aggiornamento, come ho detto il procedimento è la stessa cosa anche su Steam se non si avvia, quindi la causa è sempre il launcher di Rockstar Games. Scansione, installazione, facciamo ok, ed eccolo qua. Ho fatto già la scansione, quindi già sa che Rockstar, il launcher, sa che lo tengo su Epic Games, quindi, tieni aperto il launcher di Rockstar Games, ora, apro Epic Games, e faccio avvia. Ed ecco GTA V, che si è avviato, senza problemi, la causa era il launcher di Rockstar Games. In questo caso, se non dovesse funzionare, aggiorna i driver della tua scheda video, ok? Quindi, grazie a tutti per questa visione, e noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao! 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 Ciao!